Per noi Firenze ha sempre rappresentato l'artigianalità. E' una città ricca di botteghe dove i maestri creano a mano pezzi unici e preziosi, famosi in tutto il mondo. E sono queste tradizioni che vorremmo valorizzare, tradizioni che risalgono al Rinascimento e rappresentano un'identità importante nel mondo di oggi. Abbiamo voluto dare valore e visibilità alla passione, al talento e alla dedizione degli artigiani fiorentini e alle loro creazioni. Grazie a tutti. Grazie a tutti.